Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Alessandra Bazzardi, da poco letta segretario cittadino del Partito Democratico, non fa mai il suo nome o il riferimento, nemmeno troppo velato, e all'assessore alla cultura Marina Zaretti e ai post che quest'ultimo ha pubblicato recentemente su Facebook. In particolare un messaggio poi apparentemente cancellato in cui l'assessore Zaretti avrebbe definito la presenza di Pier Ezio Ghezzi ed altri esponenti del Partito Democratico al funerale dell'ex assessore regionale di Forza Italia Giancarlo Abelli una forma di personalismo ed arrivismo, mancanza di limiti e comportamento oltre ogni decenza. Mi sono un po' stancata di vedere che un po' la politica è scesa a livelli che sinceramente credo che i padri della politica bugherese non approverebbero come il fatto che ci facciamo vedere ovunque, anche i funerali. Le parole di Marina Zaretti hanno scatenato un fiume di polemiche alle quali si è giunta la dichiarazione del segretario provinciale del Partito Democratico, Alberto Lasagna. Restiamo stupefatti dalle polemiche di questi giorni sulla partecipazione a un evento funebre. alle meste cerimonie si va per rispetto, per ricordo, per rapporti umani e la nostra etica politica ci impedisce di raccogliere le provocazioni. La comunità politica del PD sa rispettare le persone e non cerca né vetrine né passerelle. Per la bazar di questi comportamenti da parte di un assessore comunale rappresentano una mancanza di rispetto nei confronti degli elettori mentre per Ghezzi si tratta di un'accusa molto bassa che lede la dignità di un'intera organizzazione politica ed anche della persona defunta. Durante la conferenza stampa che si è svolta questa mattina nella sede del Partito Alessandra Bazzardi ha voluto tornare sulla polemica del riconteggio dei voti prendendo in esame le accuse lanciate ancora una volta dall'assessore alla cultura ai rappresentanti di lista del PD presenti nei seggi durante lo scrutinio colpevoli, secondo Marina Zaretti, di non aver controllato le proprie schede dando il via a ricorsi su ricorsi per screditare le persone serie e costruiti sui propri errori. I rappresentanti di lista, ribadisce il segretario del PD Riense Bazzardi hanno fatto il loro dovere erano rappresentanti mandati e nominati dal PD uno dei quali, Matteo Zanellati, era presente al seggio 37 erano tutti dei volontari, dovevano assistere allo scrutinio e l'hanno fatto riportando al partito il numero dei voti che poi in toto è stato confermato dalla prefettura mi chiedo, in toto, allora hanno fatto l'errore di andare via dal seggio? state tranquilli, se ci saranno nuove elezioni non succederà più non succederà più perché non permetteremo più nulla ma io mi chiedo, erano delle elezioni normalissime in una perfetta tranquillità per cui a salvaguardare la quiete e la legittimità del seggio c'erano un presidente, un segretario e tre, quattro scrutatori perché dovevano fermarsi i nostri rappresentanti di lista? poi se non l'hanno fatto l'hanno fatto cioè per quale motivo andare anche comunque ad accusare delle persone mediaticamente? come io non accuso gli scrutatori? c'è stato un errore, benissimo, cercheremo di rimediare noi siamo per l'errore, noi non abbiamo mai dichiarato il contrario ed è proprio per questo motivo che i rappresentanti se ne sono andati a casa non parlo più Porta la tua azienda in questo video JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte